Il dirigente ha detto non si preoccupi Morrelli, tu me lo passassi tutto a posto. Allora, vuoi fare un atto vero? Rimuovi il dirigente e allora guardi qualche mio rispetto. Altrimenti per me questa storia andrà a studiare come le altre. Questo parco non lo vedranno mai, perché la variante deve essere ancora approvata. Ah no, vai di caduto. Io spero.